Conoscete il marchio Villervetta? Se la risposta è sì, non potete non conoscere questo orologio, il Jumbo Star, l'orologio del rilancio, del lancio moderno della marca negli anni nostri, questo è del 2022 40 mm e oggi voglio farvelo vedere assieme al suo predecessore, dove tutto è cominciato per questo modello, il Jumbo Star del 1968. Qua potete vedere come è stato rispettato molto bene, come è stato ben reinterpretato il design, da questo lato abbiamo infatti sempre 40 mm come di qua, ma con un vetro esalite contro un vetro zaffero, come vediamo dallo spessore abbiamo un movimento a carica manuale contro un lander, una carica automatica in questo caso, cambiano un pelo le lancette nel loro design, è stato rispettato benissimo tutta la parte del reo e anche ovviamente il fondello e il bracciale che sono molto simili e entrambi riportano sul fondello queste incisioni. vi è piaciuto questo confronto? Fatemi sapere quali due preferite e ci vediamo al prossimo video.